Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguri, emergono nuove sconvolgenti verità sul caso Willy Duarte, il giovane esile ragazzo capoverdiano in queste ore. C'è un vero e proprio tir e molla da parte di coloro che cercano di difendere i fratelli bianchi, in realtà non molti. Per la verità, a parlare è stato anche il fratello degli aggressori, Alessandro Bianchi, che sostiene che i tre in realtà non abbiano mai toccato Willy. Questa tesi però viene smentita da un testimone che, come possiamo leggere dalla fermo immagine di fronte al PM, avrebbe detto di aver visto uno dei fratelli colpire Willy, ma tante sono le testimonianze che ci direbbero che i fratelli bianchi in realtà erano dei veri e propri bulli, erano delle persone che si divertivano ad applicare quanto appreso in palestra con le MMA per terrorizzare il prossimo in qualcosa che stride profondamente con il codice d'onore, con l'etica delle arti marziali, un'etica basata sul rispetto che non ha nulla a che fare, nulla a che vedere con quanto messo in atto da queste persone nelle prossime ore si attendono. Ulteriori sviluppi, ciao a tutti!